valori e regole comune. Grazie. A facoltà per un minuto David Sassoli, prego. Sì, grazie Presidente. Signor Commissario, la settimana scorsa a Lisbona ho avuto l'onore di rappresentare il Parlamento europeo all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. 33 Presidenti di Parlamento che hanno parlato della necessità di condividere l'accoglienza dei richiedenti asilo dei 28 Paesi europei, della partecipazione economica alle attività di soccorso, identificazione e trasferimento e di rendere l'operazione Triton simile a Mare Nostrum. Le migrazioni, signor Commissario, modificano i riferimenti geografici e impongono nuove responsabilità. E sappiamo che l'Europa, quando parla con una voce sola, è un'Europa forte. Signor Commissario, noi sosteniamo l'idea della Commissione di procedere verso una politica comune sull'immigrazione, così come condividiamo la presa di posizione del Presidente Juncker di lavorare ad una politica di difesa europea. Questo approccio rafforza l'alleanza fra Parlamento e Commissione. E sappiamo che siamo all'inizio della legislatura e abbiamo delle sfide importanti, ad esempio quella di trasferire la politica dell'immigrazione e la politica di difesa europea dagli Stati all'Europa, perché un'Europa forte è un'Europa che ha più Europa e non meno e non... I'm sorry, you will have to finish. Scusi, ma deve concludere. ...per una Commissione intergovernativa e per... Tutmilaite, collega. Dispiace, collega. La facoltà per un minuto, ora Ruja Tomasic. ... Grazie a tutti.